Dopo oltre un mese ricomincia il campionato Arezzo Pianese, l'andata la Pianese centrale, la prima vittoria tra i professionisti contro l'Arezzo grazie al gol di Udo, Didonato sceglie Rolando per sostituire lo squalificato Belloni, caso, primo spunto, pallone verso Cutolo, Cutolo che prova ad andare via, Vavassori che devia il pallone, entra in area di rigore, Seminara allunga, Rolando lo rimette in mezzo, Tassi sinistro! Palla che lambisce la traversa, Arezzo ha un passo dal vantaggio dopo due minuti e mezzo, Momente, prolunga per Udo, Luciani allontana, ancora Momente, Momente, conclusione leggermente deviata, Pissardo in due tempi, poi anticipa Udo. Calcio all'angolo per l'Arezzo, Cutolo, pallone che si impenna, Gori ha tentato di trovarlo, poi Luciani lo ricaccia dentro, secondo palo, Borghini ci ha provato, raccoglie quindi Cutolo, le finte su Seminara, Cutolo, destro di Cutolo! La parata di Fontana, l'angolo poi battuto da Catanisi, palla dentro per Regoli, due volte Udo, palo, ma c'è fuori gioco, fuori gioco, su Udo rivediamo il tocco, palla sul palo, ma gioco sostanzialmente fermo. Foglia, rilancia per Cutolo, di prima per Gori, che dà a caso, bella azione armoniosa dell'Arezzo, ancora Cutolo, deviazione, Gori spaccata! Tentativo deviato, si riparte col calcio all'angolo, quindi Seminara, area di rigore, c'è il colpo di testa tentato, senza particolari pericoli, però questa è iniziativa della Pianese. Batte Foglia all'angolo, deviazione, sul primo palo Luciani e sul secondo Baldan ha mancato. Caso, una delle sue serpentine, Gori, Gori controllo, Rolando, la gasoiata fuori, altra scienza per l'Arezzo, che batte un altro calcio all'angolo, al trentasettesimo, pallone dentro per Cutolo, Gori, controllo, poi Baldan! L'Arezzo passa al trentasettesimo, rimane giù la bandierina. Ma c'è l'arbitro Collu, che annulla, o è stato fischiato un controllo regolare di Gori, oppure il giocatore che è finito a terra della Pianese, Vavassori, l'arbitro potrebbe aver attribuito a Gori un fallo, che però abbiamo visto non c'è stato. Caso, deviazione di Cutolo, la parata di Fontana. Calcio di punizione per l'Arezzo, Foglia! Illusione del gol esterno della rete. L'Arezzo è entrato molto più compassato nel secondo tempo, poco ritmo, poca lucidità, tante occasioni nella prima frazione, quanto pochissime, quasi inesistenti nella seconda, finisce 0-0. Masi dunque riesce ancora una volta a fermare l'Arezzo dopo che era accaduto con il Ponte d'Era in Serie D, anche in questa stagione, due partite e nessun successo per l'Arezzo. Io avevo detto che la ripresa è sempre difficile da analizzare, la verità è che avremmo dovuto far gol il primo tempo, tutte le occasioni che abbiamo avuto, il gol annullato, secondo me, ingiustamente, e poi il secondo tempo è avuta meno le forze, meno lucidità e la squadra che si va a difendere era avvantaggiata. La verità è che avremmo dovuto chiuderla nel primo tempo. Io, come avevo detto ieri, le difficoltà erano queste, dopo che vieni da un mese che non giochi, alla lunga la vai a pagare. L'intensità non è più, gli equilibri possono venire meno. La verità è che, come ho detto, non dobbiamo portarla alla lunga. Avevamo avuto le occasioni nel primo tempo, le dovevi sfruttare, cosa ne è stata. Quindi ci prendiamo questo punto, continuiamo la striscia e da oggi è iniziato il nostro campionato e andiamo avanti. Ha spiegato all'arbitro cosa ha fischiato, se è un eventuale controllo irregolare di gol? Veramente hanno dato due versioni diverse, quindi può essere non visto niente. È classico fallo da confusione perché il guardalinea all'inizio ha dato gol, perché noi abbiamo risultato perché il guardalinea ha dato gol. Alla fine hanno detto, uno ha detto che ha presa con la mano, l'altro che l'ha spinta. Alla fine hanno annullato. Ora è inutile ricriminare, prendiamo questo punto e continuiamo a lavorare. E con il primo tempo con quella che ci aveva costruito tanto, forse è mancata un po' di cattività che ha sottoporto? Sì, infatti è mancato quello. È mancato quello perché al primo tempo abbiamo avuto veramente tante occasioni del gol dove dovevamo sfruttare che poi alla lunga avremmo pagato. E tanto è stato. Quando viene da un mese in attività, quello è il pericolo. Alla fine ci prendiamo questo punto e continuiamo la striscia. E con l'intervallo hai temuto che ci fosse un po' un calmo? Perché la squadra è sembra un po' compassata quando è entrata dentro. Ma è normale che ti ripeto, la mia paura era questa oggi. Basta vedere i risultati degli altri gironi. Le squadre blasonate hanno quasi tutto steccato. Perché? Perché le squadre, prima partita dopo così tanto tempo, si fa fatica a ritrovare quell'intensità che avevi prima. Grazie. Grazie.